Buongiorno, inizio la trasmissione odierna con un misto di amarezza e di indignazione. Amarezza e indignazione dovute al fatto drammatico dell'attentato avvenuto davanti a una scuola a Brindisi. Allo stato dell'arte sembra che una ragazza sia morta e un'altra poco prima la davano come morta, adesso la danno ancora sotto intervento chirurgico e speriamo che si salvi questa vita. Si salvi questa vita e si salvi questa ragazza giovanissima e che è il simbolo del futuro del nostro paese. Nella trasmissione che andrà in onda immediatamente dopo questa mia comunicazione, questo mio quasi sfogo e accentuata dal fatto che questa trasmissione successiva parlerà di un fatto storico raccontato a dei ragazzi di un liceo che sono quasi coetanei a questa ragazza che ha perso la vita in questo vile attentato, che è andata a colpire quelli che saranno i giovani, quelli che saranno il futuro del nostro paese e allora nella morte di questa ragazza, Melissa, mi sembra che si voglia uccidere il futuro di questo paese. A questo fatto drammatico bisogna che noi diamo risposte serie da parte del paese, intanto dando ancora più forza e non ridimensionando la funzione dell'istruzione all'interno del nostro paese e di conseguenza se è possibile anche in una situazione di crisi aumentando i fondi che vengono dati alle scuole, alla scuola pubblica principalmente, che è quella che in questo caso è stata attaccata ed è la prima volta che avviene un fatto di tale gravità del nostro paese, che ha visto anche momenti gravi, oscuri, quale il terrorismo e quale l'attacco di mafia, ricorre fra pochi giorni il ventennale dell'uccisione di Capaci. Noi credo che in questa circostanza dovremmo dare ancora più forza alla risposta dello Stato, dare ancora più forza perché, ripeto, insieme alla morte drammatica di questa ragazza di Melissa è la volontà da parte di chi ha ordito questo vigliacco attentato di voler uccidere il futuro del nostro paese e noi questo non possiamo e non dobbiamo in tutti quanti i modi dare nessuna possibilità che questo si possa verificare, una risposta serissima da parte dell'istituzione, ma una risposta altrettanto seria da parte di tutti i cittadini. Grazie a tutti! 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 e a tutti! e a tutti! e a tutti! e a tutti! puliti! e a tutti! e a tutti! a tutti! e 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 a tutti! Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.